Una manifestazione, quella del 28 ottobre a Polistena, la seconda nel giro di due anni per la difesa, il mantenimento e il rilancio dell'ospedale Spock della cittadina pianigiana. A parlare della mobilizzazione di fine mese è il sindaco Michele Tripodi, che ai nostri microfoni ribadisce l'impegno massimo della sua amministrazione a difesa di un diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione italiana, quello dell'assistenza sanitaria a tutti i cittadini. Frecciatina del sindaco al governatore Mario Oliverio. Adesso una nuova manifestazione per il 28 ottobre, per dire cosa? Per chiedere che questo territorio abbia il diritto, così come tutti gli altri territori d'Italia, ad avere assistenza sanitaria adeguata. Il diritto alla salute è un principio costituzionale che purtroppo in questi territori è stato per molti anni negato o limitato da scelte che si sono rivelate sbagliate. Noi chiediamo il potenziamento della sanità pubblica a partire dall'ospedale di Polistena, che oggi sta caricando sulle proprie spalle il peso non solo dell'assistenza sanitaria ospedaliera degli utenti della piana di Gioia Tauro, ma anche da fuori provincia, dai dintorni di Vibbo, dalla fascia ionica, vengono pure da Reggio Calabria. C'è fiducia in questo ospedale, però la fiducia così com'è, così come il personale organizzato, così come sono i reparti con spazi piccoli, angusti e anche ridotti nella gestione dei posti letto, non è possibile andare avanti. Quindi chiediamo il potenziamento dell'ospedale di Polistena, chiediamo che lo SPOC di Polistena venga adeguato come stabilito dalle linee guida del Ministero della Salute, secondo gli standard, sia sui posti letto, sia sul personale assegnato ai reparti. L'unico discorso si è tenuta una riunione alla cittadella con il governatore Oliverio, tanti sindaci della piana, c'era anche lei. Di cosa si è discusso? È stata la manifestazione a sollecitare la Regione ad incontrarvi? La mia posizione è stata molto critica sia nei metodi di convocazione, sia al tavolo nel quale si è discusso. Mi è parso francamente un qualcosa di organizzato proprio per impedire la riuscita della manifestazione popolare che abbiamo indetto il 28 ottobre. Quindi ho difeso la linea che abbiamo portato sino ad oggi, cioè quella di evitare lo scarico a barile, perché non è corretto che la Regione Calabria scarichi completamente le responsabilità sul Commissario Scura e viceversa che il Commissario Scura scarichi sulla Regione Calabria. Qui c'è una dicotomia che purtroppo esiste in Calabria da diversi anni nella gestione della sanità che non può essere l'alibi per non fare nulla, anzi per peggiorare la situazione. Quindi sia il Commissario Scura, sia il Presidente della Giunta regionale Oliverio e tutti coloro i quali gestiscono materialmente le ASP sul territorio debbono mettersi una mano sulla coscienza, comprendere la gravità della situazione e intervenire per porre fine alla negazione del diritto alla salute che c'è sui nostri territori. Sindaci e territorio hanno risposto all'appello del Sindaco di Polistana per questa grande manifestazione, perché si prevede una grande manifestazione come due anni fa. C'è un'adesione che va oltre anche il territorio della Piana, aderito il Comune di Rossano, aderito il Comune di Trebisacce, Locri, Siderno, realtà importanti che vengono trascinate in questa manifestazione dal bisogno che c'è in Calabria ovunque di sanità. Perché io voglio ricordarlo, non è solo un problema della Piana di Gioia Tauro, i tagli alla sanità che sono stati compiuti in questi anni, che hanno ridotto i servizi per i cittadini, sono pressoché lineari da Rossano Calabro a Reggio Calabria. Non è possibile andare avanti così, non è possibile vedere negli ospedali file chilometriche, lunghe liste di attesa, anche in situazioni di emergenza e urgenza. Ormai gli ospedali sono saturi, sono ingolfati. Quindi non è solo un problema di Polistana, ma è un problema di tutta la Calabria. Da Polistana io credo che il 28 ottobre può partire finalmente un risveglio delle coscienze e un modo per inchiodare anche alle proprie responsabilità chi fino ad oggi si è girato dall'altra parte. Quindi voglio rinnovare l'appello alla partecipazione della manifestazione, alla manifestazione di sabato 28 ottobre perché ritengo che sia un momento di grande giustizia e un'occasione per le popolazioni e per i cittadini di far sentire la propria voce.